Grazie Ma guarda che Luca sta registrando anche Maaaaaaaah Vabbè fai niente Stronzo Questa me la paghi No perchè vedo i numeri E ho detto ma cosa so quei numeri Io tiro da 3 Oh Oddio Wow double Bravissimo Che curata Porca puttana Lu ma un gg ragazzo voglio dire te ci vuole carriere piacere scusami signor lù lo sai che questa seconda parte del fortnite signor lù ah che bello allora signor lù mi scusami eh questa volta c'è in compagnia giuse 9716 allora signor lù siamo a pinnacoli pendenti eh beh posto posto oh no posto un cazzo buonissimo porca puttana lù che paura vati via vati via vati via signor lù io sto qua figli di puttene ma no fa niente che se ne fotte oh dio sta morendo intanto lù che andrà a capare lo schermo porca puttana però si finculi si finculi tantissimo no lagga lagga va bene va bene va bene ha laggato al camale ha laggato vabbè ti abbiamo e niente c'ho la brucola al posto del piccone signor lù eh signor lù è un problema eh poi glielo faccio vedere io dove me non mi ficca la brucola io ho quattro posti uno nella figa uno nel culo uno nella bocca l'altro nel naso le oreche che uso come oreche ahahah non lo vedo no stavolta sceglite facciamo gli facciamo 3 2 1 vati che si inclu ha visto signor lù finchia che bomber bovone eh quello sempre ogni mattina ahahah guarda sempre baule della vita BAULE DELLA VITA PUUU LO SCAR FIGO PUTTANO TROYO VOCCO LURIDA MERDA CHE INCHILATA altro scudino eh mi fa un bel porca pompino nemico 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 no signor lù ce la fa dunque dunque comunque frana non è che è fria eh tempo che vieni tu dai lo stavo ammazzando dai guarda che è rotto in culo guarda oh mi sono tos aiuto vieni qua scendi in picchiata scendi in picchiata piuttosto lo seguo lo seguo bravo oddio ero piccione ero piccione ero piccione ero fottuto piccione cos'è successo bravo lù grandissimo attento però eh anche dietro è dietro non sapevo è niente non ho fatto ninja è ninja no ti fiu è niente va che va a curare i suoi miei che da pucciacca la mamma quella sguarda la ratta di nonna traverbi andiamo su bravo come dice il proverbio una mela giorno toglie gioia di tonno ahahah 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 è stato bellissimo ma sta veramente nella top ten la top ten signor luna senta anche dal che coso come? ehi senta scusi aspetti 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 eh si si aspetti tutti aspetti tutti tutti mi parlano signor luna alieno perchè se sono piccone cos'è? cos'è? nooo signor luna sento lui quindi mi stai dicendo che tu stai diventando come ninja sei diventato si son ninja di albuzzarla ahahah no no le vero! c'è gente ah ma aspetti 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 io non mi stupro io non mi stupro mi spiega e signor luna no 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 signor luna siii si vabbè o dai luca di merda che c'hai dai ci avevi sottotiro è un altro Inculata Niente Bella Signor Lou Volevi dire una cosa No Dimmi Venga No dai 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 fallo Buonissimo Troppo forte hai visto Mamma mia Fortissimo Lou Si può fare un altro più 18 Qua Io pena Non ho fatto il gioco Vabbè nel dubbio Siamo un gentil nuovo Eh Aspetta Mi sembra tipo Eh die Posso dire che è partita da dio sta partita Ma tu sei scemo Tantissimo Andiamo 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 A tomato town Ma scusa la cassa di munizia non l'hai presa Cazzo va anni Ma guarda che sto inseguendo Sto inseguendo i proiettili Sono morto Che è stato detto Oggi che ti puoi scienze Morto Bravo Dove sei? Sto distruggendo una pizzeria Sto letteralmente distruggendo E siccome ha fallito Mi ha chiamato per i lavori di ristrutturazione Questo qua sarà il futuro McDonald's Ostia se gliel'ho tirata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti